Camera di commercio di Napoli parte l'intesa bilaterale tra Egitto e regione Campania. Si è tenuta questo pomeriggio alle 18 presso il Palazzo della Borsa di Napoli in un affollatissimo salone centrale la conferenza internazionale Napoli-Il Cairo, la nuova rotta per lo sviluppo economico, anello importantissimo di congiunzione fra i due continenti, Europa e Africa. Nel corso dell'incontro che è stato moderato dal giornalista Alessandro Sanzoni è stata annunciata l'intesa che definirà le linee guida della futura cooperazione economica e industriale fra regioni Campania e il Ministero del Commercio e dello Sviluppo Economico egiziano, un evento di forte significato economico che vede la Cise come pioniere dei nuovi epocali traguardi internazionali, come afferma il suo presidente Giuseppe Romano. I nostri eventi a Napoli, Nota e Pompei del 15, 16 e 17 settembre rappresentano momenti di importante valenza internazionale che avranno come protagonisti l'Italia e l'Egitto, due paesi caratterizzati da un comune denominatore naturale, il Mediterraneo. Alla conferenza sono intervenuti Ali Al-Moselli, Ministro per le Forniture e del Commercio Interno della Repubblica d'Egitto, Ibrahim Asmavi, Vice Ministro e Presidente dell'Autorità Internazionale per il Commercio e lo Sviluppo della Repubblica d'Egitto, Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Gian Maria Fara, Presidente Eurispes, Vincenzo De Luca, Presidente dell'Aggiunta della Regione Campania e Giuseppe Romano, Presidente del Cise. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori,